Salve tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come attivare il TPM 2.0 attraverso la vostra scheda madre mi sto riferendo alla MSI B450 Gaming Plus, Max, e quindi molte applicazioni oppure anche Windows 11 vi richiede di attivare il TPM 2.0 quindi non lo faremo attraverso un'immagine che prenderò su Google, ma lo faremo attraverso il BIOS della mia scheda madre quindi non mi resta che passare all'altra scena con il mio telefonino e riprendere così lo schermo del monitor e farvi capire come attivare questo TPM 2.0 quindi ci vediamo dall'altra parte ok ragazzi, allora per entrare nel BIOS fate F12, GANCH, tutte e due premete sempre finché non esce F2, GANCH, DEL, oppure F12, oppure F2, ok e una volta aprimuti questi tasti entrerete così nel BIOS una volta entrati qua dentro dirigetevi su Settings, Security, Trusted Computing e qui potete abilitare il vostro TPM, ok? lo stato TPM qui a voi ci sarà disabilitato, quindi abilitatelo qui invece lasciate stare così com'è soprattutto se qui avete disabilitato la sicurezza del supporto del dispositivo fate abilitato quindi ragazzi, questo è, ok? questo è l'avete abilitato con successo e niente poi le applicazioni non vi daranno più quel fastidio di attivare il TPM oppure se state installando Windows 11 non ve lo dirà lo stesso quindi avete attivato il TPM 2.0 quindi ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale di sfogliare un po' sul mio canale tutti gli altri video tech, mi raccomando attivate anche la campanellina e lasciate anche un like quindi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao